You're making me stronger, making me stronger You're making me stronger E ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui in questo nuovo video Bentornati qui su Wreckfest, nuovo episodio in cui andremo a testare una nuova auto delle DLC Le DLC che ci sono stati su Wreckfest Abbiamo appunto provato tante auto, l'ultima che abbiamo provato è stata proprio questa La Pocket Rocket con delle gare fuori di testa Andatevele a rivedere se ve le siete perse Detto ciò proseguiamo perché la prossima auto che dobbiamo andare a testare è proprio questa Il Little Trasher Quindi ce lo selezioniamo, molto bello, molto bello Vediamo però che cosa ci consente di fare Colorificio, intanto iniziamo a vedere gli stili Ok, questi qui sono molto semplici Ok, no io ho visto quello il secondo Hot Dog Styles con questa colorazione che non è affatto male Modello vediamo un po', potremmo farlo eventualmente Hot Road Così fiammeggiante Non saprei, non saprei Anche così non è affatto male Ma vorrei provare Guarda, più che fiammeggiante ho visto che questa qua Mi sembra molto, molto carina Come verniciatura Vai Colorazioni io quasi lo lascerei Di questo rosso acceso Che non è affatto male Direi A meno che non vogliamo farlo tipo sul verde acqua Guarda, ti dirò No, forse facciamo Questo lo lasciamo rosso E lo stratro 3 Lo facciamo nero Eh? Eh? Ma guarda che non è male Non è male Vai, vai, vai Selezionalo Perfetto Detto ciò Andiamo a vedere un po' i potenziamenti I motori non li tocchiamo Andiamo a modificarlo Mantenendolo di classe B Com'è originario Ok Con questa arriviamo a B 192 Perfetto Detto ciò Adesso Protezione Ok Andiamo a vedere Le catene questi qui non sono affatto male Che quasi quasi effettivamente gliele lascerei Perché sono caratteristiche Queste fanno abbastanza schifo Quindi lasciamogli alle catene Dietro abbiamo Ok Volendo dietro questo qui ci si potrebbe quasi anche mettere A meno che non mettiamo questo stock Oppure mettiamo Eh Sai che forse non sono male questi Perché questo Si è cromato con delle catene Però eventualmente potremo metterci questo Che non è male Mi piace Rollbar Già abbiamo qualcosa Potremmo metterci questo Ma non so fino A che pro potrebbe essere Interessante No Lasciamogli Rollbar che già ce l'ha E queste laterali Sono penso Abbastanza inutili Più che altro non mi piacciono E questo qui al vetro Abbiamo già Quello doppio Fatto a catena Che non è male Beh è caratteristico Per questo Per questo veicolo Quindi lasciamolo Ora andiamo all'estetica Allora I cerchioni Non sono male così Magari dietro gli mettiamo queste Davanti lasciamo le originali Si facciamo così Ok ci sta Adesso Gli scarichi Madonna mia Quanta roba ci sta Ok questi qua Sono dal cofono E ok Ci stanno Poi abbiamo Laterale lì Lo stock Il doppio marmittone Posteriore Poi abbiamo i classici Che escono da qua Cofono A questo punto Un cofono Diciamo Troppo elaborato Neanche Ci occorre Perché Comunque Il buco qui Non è necessario Anche se questo A carino No 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 Io lo lascerei Stock in modo che si vede Si vede bene La grafica Vai Così non ci costano Soldi L'alettone Dove lo metti L'alettone E se L'allero No 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 L'alettone niente Qua L'alettone niente Ok questo davanti così Ci starebbe Carino 220 crediti O 380 Vai Fai questo qui Che è un po' più carino Richiamiamo un pochino Di nero Parafango Questo penso che Ci toglie Roba Non mi serve Oddio ma sai che Tecnicamente Questo non sarebbe Neanche malaccio Che si vede un po' di Un po' di motore Si mi piace Mi piace Mettiamo la griglia Dentata E poi qui sopra Vediamo cosa possiamo Metterci Ragazzi La lama È figa Ma ti dirò Che la cassa Del morto Qui dietro C'ha il suo Perché C'ha il suo Perché C'ha il suo Perché Dettoci Ladies and Gentlemen Io direi che Possiamo perdere Immediatamente A farci delle Garete incredibili Pazzesche Meravigliose Allora Cerchiamo Un Una pista Dove Distruggerci Vai Gara Alza Volax Sandpit Mamma Che bello Porca miseria Bellissimo Non big rig È classe B Se non sbaglio Vero Classe B Quindi tutti quanti Con classe B 5 giri Ci sta Perfetto Possiamo proseguire Andiamo dentro Con questa prima gara Ok Pronti a partire Ora Tra l'altro Vediamo un po' Le regolazioni Ma Oddio Le curve Fanno La curva Fa un po' schifo E partirei Immediatamente Guardalo Quanto è bello Vai Così È pazzesco Vediamo Se si guiderà Anche bene Ci hanno aperto Il bauletto posteriore Uh Uh Eh Qua sta succedendo Un macello Però E dai No 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 Ci ha Ci ha pittato Ci ha fatto La manovra Pit Schifoso Maledetto Maiale Guardalo 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 Come vola Guardalo Come va Ritmo Della notte Eh Vabbè Ho capito Ma questa cosa Si cappotta Anche da fermo Ma dai Ma mi sembra eccessivo Posso dirlo? Che mi sembra Che mi sembra eccessivo Ok Vai Vai Metti in terza Vai così Siamo ventunesimi Male male Oh Intanto ok Si sono aperti a sipario Va bene così Ne abbiamo approfittato noi Vai vai Si derapa Si derapa E si va Vai così Bello 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 Mi piace anche le colorazioni Bello Bello Questo qua Questo è veramente bello come veicolo Mi piace Mi piace Ok Attenzione Mettila in terza Siamo quindicesimi Cinque giri Che sono giusti Tra l'altro Per Per questo circuito Quindi ci sta Mettila in seconda E Vai Attenzione Perché c'è dietro lo stronzo Che prima ci ha pittato Ok Tredicesima posizione Vai vai No no Ma perché Perché si cappotta In questa curva Ma dai Ok Attenzione Qua davanti La Cazzo Vai così Siamo passati Decima posizione Per noi No E Vabbè E Vabbè E' andata E' andata Ok Abbiamo capito Che quest'auto Quest'auto Non Non riesce a stare dritta Si cappotta Facilmente Forse Forse Sospensioni Troppo morbide E' Probabile Potrebbe essere Così Non lo sapremo mai Ma potrebbe essere Così Vai 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 Orco Due Questo è arrivato Di gran carriera Bene A questo punto Puntiamo A fare Una top ten Ok Dodicesimo Il decimo E' lì davanti Vai In terza Oddio In realtà Forse Driftare Non è proprio Il massimo Ora Proviamo a non Cappottarci Per cortesia In questa curva Adesso Potrebbe essere Una bella idea Ok Ce l'abbiamo fatto Occhio Perché ci sono Degli avvalamenti Che Ci fanno Rischiare Comunque Uh No No E dai Ma allora Lo veri Che siete Bastardi Ma allora Siete dei pezzi Di merda E niente Il danno Il danno Questo veicolo Ok E' bello Ma Io voglio Esprimere Tutto il mio Disappunto Voglio Esprimerlo Ma lo farò In silenzio Perché altrimenti Mi chiudono Il canale Quindi Eviterei Forse ci voleva Uno spoiler Che vabbè Che il signore L'ammassi Però no Vabbè Questo veicolo Questo veicolo E' inutilizzabile Non No Non Non ci siamo Basta 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 Capottarsi E allora Siamo arrivati Diciottesimi Non so come Ma siamo arrivati Diciottesimi Va bene Va bene La barra serviva A noi Abbiamo Abbiamo L'abbiamo vista Lunga Perché Praticamente E' ingestibile Questo veicolo Ma va bene Ma va bene Vai Allora andiamo qui Espedale Raceway Dove soffriremo Ancora di più Però Proveremo A vedere Se possiamo Gestire meglio Il veicolo Nel senso Proviamo a mettere Delle sospensioni Un pochino più Magari Rigide Che forse ci possono Aiutare A far partire Un pelo di più Il posteriore Forse potrebbe essere Un problema Perché magari Mettendoci di traverso Le gomme fanno Troppo attride Quindi Ci cappottiamo E' probabile E' probabile Le rigidiamo al massimo Così la abbassiamo Vedi Cerchiamo di renderla Al più bassa possibile Vediamo se Le nostre modifiche Possono Andar Andar meglio Uh Pazzesca Accelerazione Guardalo 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 come si insinua Guardalo come si insinua Levati Eh Boris Qui davanti Oddio siamo in quinta posizione Ma danno una partenza Una partenza Devastante Uh Librivido Staccala Gomme Oddio volevo provare L'incrocio Ma in realtà In realtà no In realtà no Perché abbiamo Una scarsa accelerazione Ma Ma siamo in sesta posizione Quindi non è impossibile Si tira la staccata Occhio però eh Occhio a prendere avvallamenti Perché Abbiamo visto che quest'auto va Si cappotta Come se non ci fosse un domani Vai vai L'abbiamo stretta Anche Anche bene Forse troppo Ma va bene così Vai 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 Che Boris Si è andato largo Mettiti scia Mettiti scia Boh Contro il muro E vai così Torniamo in strada Però maschio Grande Guarda Boris Ma che siamo Matti Ma che sei scemo Guardalo Guardalo Lì dietro Succede un macello E se ne vanno Questo Ah questo ha fatto Lo sveglio prima E adesso di nuovo Dietro a noi Siamo in quarta posizione Attenzione Qui a Jure Guardalo Guardalo Boris Guardalo Boris Guardalo Boris Un pazzo Boris un pazzo Maniaco Tira la staccata Occhio Madonna mia Ho visto le ruote Alzarsi Mi sono spaventato Madonna dai che ce l'abbiamo Qua davanti Il primo è lontano Ma Il terzo e il secondo Li abbiamo qui davanti Possiamo Possiamo prenderli Vai 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 Abbiamo fatto una curva In apnea Ci sta Ok attenzione a questa chicane La stringi qua La rallenti un po' La tagli Nel modo corretto Mamma che curvetta Che curvetta Incredibile Occhio qui Tocchiamo il cordolo Interno Tocchiamo il cordolo Esterno Guarda lì che traiettorie Pazzesche Meravigliose Tiriamola staccata Occhio al muro Sorpassiamo Burke E ci mettiamo sempre Dietro McLaren 6 Vai 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 Madonna come Ecco le sospensioni rigide Sembra guidarsi meglio Adesso l'ho detto Succederà un macello Però Occhio qua Ok Effetto pendolo Per Per cambiare direzione In modo più veloce possibile Non stiamo facendo neanche troppi Danni in realtà Questa è una gara Ci appoggiamo Uh No 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 Per guardare dietro Metti in seconda Vai 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 Eh il primo a 9 secondi È irrecuperabile Probabilmente No probabilmente È irrecuperabile Cerchiamo di mantenere questo Secondo posto Madonna Madonna Torna in pista Torna in pista Porca puttana E niente È successo Un macello Siamo ancora terzi Non so come Ah probabilmente Quella con l'auto celeste È un doppiato Cazzo però Ok ragazzi È partito l'ultimo giro Dove dobbiamo stare Attenti A coprirci le spalle Da McLaren 6 Che sta arrivando Di gran carriera È a un secondo Da noi È a un'auto Più veloce Della nostra Quindi occhio Dobbiamo Salvaguardare La nostra posizione Occhio Se ci capottiamo lì Guardalo Guardalo McLaren 6 Eh vedi dal cazzo Occhio Madonna mia Vai così Copriamo l'interno Se non lo facciamo passare Vai così Inderapata Ultima curva Davanti che è successo Il danno Fermi No no Non ci riusciamo Cazzo Si è rimesso in carreggiata Se no Avevamo preso anche Burke Ma Siamo arrivati in terza posizione Dai 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 Ok 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 Mi è piaciuto Mi è piaciuto Bella gara Bella gara Tirata Tesa Mernice è entrata un po' al casino Ma Carina Abbastanza carina Dai dai ci sta Terzo posto ottimo Andiamo dentro signori Al Fire Rock Raceway 100% asfalto Anche qui Vediamo come ce la caviamo Visto che abbiamo Abbiamo notato Abbiamo riscontrato che Sull'asfalto con i giusti setting Riusciamo a meno a controllarlo E a non farlo capottare Come Nella prima gara Che ogni curva Andavamo Catapultati Nell'iperspazio Vediamo qui al Fire Rock Raceway Cosa succede Sempre un'ottima accelerazione Iniziamo a dubbio A districarci Tra gli avversari Mentre qualcuno si schianta Noi purtroppo Ci ritroviamo sempre Catapultati nel traffico Quindi proviamo In questi cinque giri A mantenere Il contatto Comunque Sempre dei primi Per provare a fare Delle gare Entusiasmanti Vai 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 Eh niente Ci siamo cappottati Ci siamo cappottati Igualmente Quella curva in discesa Sarà un problema Quella curva in discesa Se non stiamo attenti Ci cappottiamo ogni giro Ok Attenzione In terzo Oddio Pensavo di fargli il pelo Più o meno L'abbiamo fatto L'abbiamo buttato giù Effettivamente Con il cartello Quindi Dobbiamo stare attenti Perché qui I cordoli sono Veramente alti Quindi se li tocchiamo Ci cappottiamo Proprio Non c'è Non c'è Cosa che tenga Guardalo intanto Lì Quello sulla montagna Che va Scollina E rientra come un criminale Occhio Occhio a questi cordoloni Che ci fanno Rischiare Madonna Uuu Va bene Va bene Però Incredibilmente Ci ha salvato La vita Vai Stringila Stringila Riparti 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 Abbiamo una buona Accelerazione Con questo Guarda lì Madonna Dei pazzi Criminali Chi è quello là È sempre Boris No Oh sì È probabile Che sia sempre Boris Mamma mia Che curva di merda Che ho fatto Ho fatto veramente Una curva da schifo Niente Adesso inizio a entrare Dentro lo schermo Guardalo Ti resta bene Sei un coglione Fattelo dire Fattelo di Eh decimi Decimi Secondo me Qua rischiosa Guardali Guardali Un trittico di auto Che se ne va Sono andati un pelo larghi Proviamo ad approfittarne Per guadagnare qualche posizione Difatti Eravamo decimi Adesso siamo settimi Ottimo così Si sono schiantati male Ne abbiamo approfittato E abbiamo guadagnato Tre posizioni Attenzione qui Alla curva in discesa Frenala Delicatamente Ottimo Vai Scala in seconda In seconda In seconda Attenzione Guarda che Comunque vuole Intromettersi Non vuole stare a guardare Noi che proviamo a recuperare Paul 24-48 Vai Appoggiati Bene così Orco schifo Bene così Bene così Le sospensioni rigide Aiutano Un pelo Siamo in sesta posizione Sta per cominciare Il penultimo giro Di questa gara Ok Non abbiamo più nessuno Che si va a schiantare I primi qua Le curve le sanno affrontare Peccato Per noi Occhio Abbiamo Gurra qui dietro Che guardalo Che non si vuole Arrendere Ho capito A Gurra Gli devo far Devo far Dana croc Che Sa ricorda Per tutta la vita Boh E mica posso Cappotarmi solo io A Gurra E che Carlo Eh Noi ci Cappotiamo Ma di tanto in tanto Sappiamo anche far Cappotare gli altri Mi sembra Mi sembra Giusto e corretto Ok Questa volta L'abbiamo fatta Decisamente meglio Questa curva Però Quattro secondi Dal quinto Non penso Li recupereremo mai Bell'aggressivo Questo cordolo Ma sta per partire L'ultimo giro Penso che non ce la faremo Se riusciamo a recuperare Il quinto Magari Arriviamo in top 5 Ma non penso Ci dovremmo probabilmente Accontentare di una Sesta posizione Ci proveremo Fino alla fine Ma Sarà complicato Perché in realtà Dobbiamo stare attenti A A non farci Anche Sottrarre la Sesta Di posizione Quindi vai 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 Tienila Guardalo 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 Come provo Guardalo Come ci prova E va Tacci tua Volevo incrociare Invece Mi ha tirato Bene la curva Bastardo E niente Mi ha inculato Mi ha fregato Mi ha fregato Volevo incrociare Invece GG GG Per lui E niente Signori Settimo posto Settimo posto Ma ci accontentiamo Così Ci accontentiamo Così Bene signori Anche questo episodio Lo possiamo concludere Qui Io direi Che Per oggi È tutto Sono abbastanza Stanco Questo è il quarto episodio Che registro di Vila Visto che sono più o meno Una mezz'oretta Barra 40 minuti Di episodio Ho registrato Abbastanza per oggi Io vi saluto Vi invito a lasciare Un like Un commento Ed iscrivervi Se non lo avete ancora fatto Noi ci vediamo Ad un prossimo episodio Di Wreckfest Dove testeremo La prossima Auto Che ci toccherà Dei DLC E ci vediamo Ad un prossimo video Sempre qui ovviamente Sul mio canale Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Grazie a tutti.